Saluto a tutti, razze d'animali corsi che ho una lascia dai nostri antichi, si erano venute secoli e secoli fa che erano razze che erano adatte per il campo in Corsica, e oggi c'è un capo d'olio che è un capo d'olio, e a questo punto vogliamo parlare appena di questo capo d'olio, di queste razze corse, che sono capaci di mantenere e svilupparsi. Allora, abbiamo parlato di queste razze, abbiamo dato uno di i capi macchia dell'Istituto Nazionale di Ricerca Agronomica dei Corti, Francesco Casaianto. Francia, ti saluto. Saluto. Allora, queste razze corse, dicono sempre se chi prende altro è sempre più bello che se chi c'è in Corsica. E' una difficoltà dei nostri pastori, dei nostri vaccaglie, di considerare che tutto ciò che viene di continente è più bello che un oscio. Invece è vero che ci sono dei razzi in continente, ciò che conosce. Si vede un salone dell'agricoltura, si vede animali tamanti, eccetera. Però non sono mica veramente capaci a produire ciò che diventano i continenti in denù. E qui si verrebbe, quando si tratta di importare questi razzi qui, si verrebbe che non sono mica capaci. In generale non sono mica capaci. Se le nostre antiche erano denude, erano capaci di campare qui. Allora, erano capaci di campare qui, si può migliorare, si può migliorare i razzi locali. Non sono mica considerare che sono perfetti, sono fatti una volta, per sempre. C'è da considerare che si può sempre cercare di migliorare qualche capacità, qualche produzione. Ad esempio c'è Pecua Gorza, che è stata migliorata. È vero che a principio, innanzi di fare la selezione, era piuttosto intorno a 90 litri per campagna. Allora, si giunghi facilmente a 140-150 litri. Ma c'è i limiti di bassa mica? Ci sono i limiti? I limiti sono più limiti di come i bassi producono, ciò che gli dà a mangiare. Una razza è adatta a un rugione. E qui si ha chiaro di tutto, è l'adattazione a un rugione. Allora, giusto appunto le vacche. Non erano mica abbi in mura delle vacche, eh? No, poco. Non erano mica conosci, non erano mica una tradizione? Poco. C'erano i boiaggi. I boiaggi esistivano in dei tempi. Ma erano i pastori, erano i boiaggi. Ah, chi ha sa? Un altro mistero. Chi ha sa vacca gorsi in particolare? Sa vacca gorsi campano anche i petri, come tu dici. Non ha bisogno di nuda. E chiuga? E chiuga, più chiuga. Allora, ci sono qualche varietà di vacche, perché per fare i boi veramente potenti, che possono avere la forza per lavorare, c'era la vacca di un ghiunzani che era conosciuta. Non so se ti aveva fatto... Io non ti ho parlato di lui, io non so. I boiaggi di un ghiunzani. I boiaggi di un ghiunzani erano più famosi che l'altro, perché c'era una razza più alta, più chitaria, più maio. Ma dicono che sarebbe la bruna della classe, è vero o no questa vacca? Allora, questa è un'altra cosa, non mi schiattuto. L'origine genetica da vacca gorsi è la stessa a qualcosa vicino che a vacca sarda, a chiuga-chiuga. A chiugoletta. A chiugoletta. Sarda, sono cucini, c'è una prossimità genetica veramente forte. e c'è una somiglianza in cui vacca del Maghreb, che è a Brun de la classe. Musi nera. Musi nera, con un antuspino a parte più chiara. Filironata. Filironata. C'è un po' di uvarata, l'uvaru bianco, eccetera. Ci sono dei patroni di colori che sono similari. Ci sono sempre i sei vacchi. Ci sono sempre i sei vacchi, esistono sempre. È un po' in perdizione, perché di noi tutti i razzi locali, pur e soprattutto, sono in perdizione. Questo è un problema maio del pianeta, si perdono. Ma si può dire che c'è questa somiglianza e di noi, dal tuo punto di vista genetico, c'è una prossimità che è stata provata. L'abbiamo messo in evidenza. Ci sono state conoscenze che sono state prodotte in un progetto che noi stiamo con tutti i paesi del Mediterraneo. Allora, ti propongo. Dico, andate vicino a Morosaia, avevo Antone e Mazza, lo conosci, bacchi ho conosciuto. E vi vedete come... Conoscendo anche bene. Lo conosce anche bene, vi vedete come Antone e Mazza che ha burzuto bene qualche bacca corsa. Sti cinquanta l'ultimanni posso asì e mi metto in causa che è muovato forse n'importa che. Ma cinquanta anni in enzo, mi ricordo mica, ma per sentire i nostri vecchi, gli animali erano straffati. Ma non c'erano mica le vande che lui diceva, qua, qua, minimo vande di bacche, io sono sessanta, settanta. Cinquanta anni fa, quello che aveva quindici bacche, erano scoposi. La razza corsa non è mica come razze francese, oggi avete la cascone grigia, limusine rossa. E la razza corsa, io ho mai visto a me, perciò ne so, penso che la razza corsa c'erano tutti i culori, tutti, voilà. Per esempio in Castagniccia, il culore, il più che c'era, c'erano queste rune o queste rosse o mascarate. Se bovolate in Corsica Sottana, il più che l'uginiero era di sterice. In Balagna c'erano i vali e tutti runate. Dunque era in funzione delle regioni, o perché non uso mica. Questa qui è una vacca corsa, non è mica nera, runa, runa viene runata. In francese si chiama la remi-la-sierra, voilà. Perché dico che è una vacca corsa? Perché il culore di noi ha tagliato di quello che mi ricordo quando ero zitello o zitellone. Sono bacche abbastanza lunghe rute, hanno una faccia lunghe rute, quella di una gorni piana, hanno i gorni veramente in cima e il capo. Pesa da 200-250 kg di peso vivo, di queste vacche che sono giunte a Francia, di girate che è a mezz'anno, di 400-600 kg di peso vivo. Dunque diciamo che non è che pesa. Campano non la manca, le resistono alla fame, è capitato qua. Poi girate come su Maria di Roma, ogni anno si è morto anche loro. Sono rustiche? Sono rustiche. E' uno dei nostri vantaggi che hanno per il rapporto alle razze che conosciamo in Nascoth è che in noi qui, una vacca aperta, abita lì, non è cosa vi dire. Non c'è mai stato negli montesi, ma io personalmente mi sono installato un 78, avevo combattuto Boswasia e mille vacche. Se ho aggiuntato 170 vacche a vederlo, non avevo mai fatto vedere una vacca. Allora, i due ricorsi sono sempre gli stessi a fare. I due ricorsi, in una situazione attuale, non si ne può mica avere, perché chi giustamente viveva, c'è una carne che è grassa, dennera, saurita, e dunque per me, per mio conto, penso che l'è buona. Non è mica conosciuta perché qua si va sia giulazzo i picchi, un cenimo che ne voglia, o poca gente, perché capiscono sempre così, la carne è dura, così. E' un po' più ricco e l'acqua che va bene. Mi fanno i vitelli grugiati, come li faccio io, dunque vitelli che sortono da... Allora, li metto da sei a nove mesi, se nemmeno che sei più ricchi che un re. Ciò che in un dia, non c'è nemmeno cinque rocchi, l'ho, quest'anno vi vengono quattro e pitti, dunque cercerò. Quest'anno ho trovato poco presto di 31 o 33 tonne di carne, 250 animali perché faccio appena di commercio, non lo sai, c'è il 95% che è passato ai marocconi, a Nalala. Non possiamo mica selezionare per dire, voilà, e mettere questa razza così per figliarla, come un'erba, per figliarla, no. Domani siamo selezionati a una razza, perché questa razza che ci sia una corrispondenza, che la vi faccio campare, non possiamo fare qualcosa. Ma selezionare la razza, andando, la mettiamo in luogo, la saccadismo, si dicevano, ma la mettiamo in luogo e la fai muoere. Ha visto Antone, ma selezionare, ha un po' di mischi, ha tenuto le gambe e poi c'è un crociamento, ma chi ha questa gambe, questa gambe, questa carne, o questo, chi ha di particolare? Allora, ci vorrei fare un po' di precisione tra un vittedo, diceremo, crociato, in generale, se mette un tono di razze di gare, di continenti, e di un crociamento che ti dà un vittedo che è abbastanza ben fatto. Ogni amico fa 120-140 kg, un vittedo che ti dà, soprattutto in Niuro, in certi luoghi così, ha anche più chiude. E non si può mica lavorare con un vittedo così? Di sicuro che si può lavorare, la gara è bellissima. Se tu vedi certi macedari che lavorano qui, la gara è veramente magnifica. Uitello, sudje e dopo bascino, appena? Sudje e pace. Allora, a principio sudje, dopo sudje e pace. E a Avvina, forse è un sudje più tanto a fare, perché c'è più tanto latte a sudje, e dunque c'è più pascura che latte, infatti. e Akahi diventa più funzata, più chiara come Nanzi. Ma allora, io Akahi dicono, i vittedi ho troppo giughi, un bale mica, un rendono mica abbastanza, chi ne ha messo questo discorso tu? Eh, questo è un discorso per dire che è più facile mettere un colteto in una carcassa più maio, così caccia i muscoli, caccia la quantità, invece di caccia la qualità. questo gli convene a Ede, perché c'è meno lavoro. Che io dovrei fare a te? A me mi pare un filetto, è più 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 un filetto, ma un filetto di vittedo di Razzagorza è magnifico. Magnifico. Ah perché non c'è mica c'è un lavoro? E questo non capisco mica. Di voi trenta, quarant'anni ancora dicono mica, che io Akahi andò andò a questa stava gusti. Allora... Abbiamo cercato di lanciare questo affare, abbiamo lavorato, abbiamo lavorato anche abbastanza in questo affare. Soprattutto per cercare di unire gli enti che devono essere in azione collettiva, perché ognuno in questo scorso non può fare tanto affare. Ma la difficoltà è che ci sono i primi, ci sono tanti soldi, facciali senza vannuta, che quando vengo io, proponendo affare, che c'è bisogno di lavorare, c'è bisogno di affare un po' complicate, mi dicono, François, prendiamo un caffè ma sul lavoro qui non vediamo mica. Ma ricordo un po' che ha detto, c'è lì a dare prima più, c'è mica le prime per avere qualche. Questo sarebbe un po' perché qui in Corsica abbiamo troppi soldi che circolano senza avere la produzione in faccia. E qui penso che, ma penso che il presidente dell'Odark pensa alle stesse affare. Allora vuole avanzare, vuole avanzare, vuole cambiare i cosi. C'è cambiare l'affare. Perché altrimenti la campagna resta un deserto, perché ci sono gente che faccia una dichiarazione di non so quanti ettari senza avere un animale andando. Questo è un affare strano, eh? E qui si ha morti, ha morti di a ruralità a Corsa. Pensi che un bidello Corsa è più o vuole una scusa, infatti? Allora, è una scusa, diceremo, è più a maniera di funzionamento di tutta la villiera. Ma ci sono esempi in continente, c'è un esempio veramente interessante di qui del Toro di Camarga. Non so se tu sei andato a visitare il Toro di Camarga. Il Toro di Camarga ha avuto un'appellazione d'origine, ha avuto un'ossi, ha nato un animale che è un osso. Il Toro di Camarga è abituato ad andare, è mezzo salvatico, se tu l'hai visto, tu conosci il Toro di Camarga. E ti faccio carcassi che sono tamanta e noce, ma hanno un'appellazione d'origine da questa gara. Allora, qui abbiamo un bambino di capra, qui abbiamo un bambino di stessa affare di capra. Allora, oggi abbiamo un bambino di capra, di capra alpine, e dicono che rendono di più. Ah, di sicuro che producono di più, qui si è sicura. Che tante quantità di latte, a noi non si può mica comparare, qui si è sicura. A noi c'è, diciamo, 180-200 litri per campagna, invece qui d'altro farà 600-700-800 litri. Ma non vogliono neanche fare il stesso affare, non sono neanche conduttere del stessa maniera. Non si può neanche comparare. Se tu metti un alpino, una sanenna, per si macchi, in usci, campagna senza problemi, non faccio più nuda. E si ne muore. Strappano loro e ristrappano loro. Non sono neanche adattati, qui si è sicura. Tu, come si fa per produrre? Perché oggi c'è un pericolo, c'è un bel pericolo, come vuoi la fare tu? Allora, il pericolo c'è, il pericolo è una razza di Gapragorza, c'è, veramente, la ragione, penso che forse la razza locale è più in pericolo di tutti qui che notavamo, è più in pericolo e, portanto, si può campare bene con la Gapragorza. Allora, ti dico, abbiamo fatto un corte a Marco Memmi, il nostro veterinario, quindi non Gapraglio, l'hiamo mandato a Marco, l'hiamo mandato, se che l'hai... Che l'hanno avuto qui, il lavoratore? Allora, c'è da io, se che l'hai una Gapragorza. La Gapragorza è piuttosto una Gapragiù, qua c'è con lì, per rapporti a Gapragiù, a Gapragiù, che pesano un massimo da 40-45 kg, i Gapragiù continentali sono da 60-65 kg. In generale, è bello lungo, più o meno lungo, allora, il bello secondo a Gapragiù può essere piluta fino a Vaccia, non saremmo ancora con il vino così, accetta tutte le lunghe e le belle, non c'è mica veramente una lunghe specifica, ma in generale è bello lungo, per butta, due volte è ben di nada, certo hanno ancora giù, in faccia, e, voilà, secondo colore. Un muso in generale è un muso, in della classificazione, zotecnia, diciamo, rectilinia, cioè che è così, è diritto, non è mica come il becore appena, come il montone, è diritto, non è cammuchato, è sempre diritto. L'occhio è vivo, è più vivo, è sempre vivo, l'occhio, la Gapragorza è vivo, per rapportare a queste zaccagne di continentale, non è appena benci, è sempre l'occhio vivo. ma in mente sono orecchie giughe, mica troppo lunghe, orecchie giughe, mica l'oretti lunghe, come, si dirai, come le Gapro-Rove, che c'è l'influenza di la Gapra africana, perché qui, l'origine, ce che le dicono di Gapragorza, l'origine c'è la scerfa dei Balcani, la scerfa dei Balcani, c'est-à-dire Bulgaria, Romania, e tutto, è origine di tutte queste Gapre europeane. e quindi, non è molto facile, la selezione è stata fatta per i pastori, perché i mugni hanno la mano, e quindi, gioiai che le seriano agili, faccio la mugna, mica dure, mica furzate, come si dice. Quindi i pastori hanno fatto una selezione a parte di una Gapra di Gapra, di origine, appena salbata, e hanno fatto questa selezione a gusti. E... Tiè, 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 tiè. Tiè, tiè, tiè. Tiè, 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 tiè. Tiè, 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 tiè. Tiè, 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 tiè. Tiè, 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 tiè. E allora, cominciamo, mica? Se vede che quando si muglia, si è più rasso che quelle dei continentali, eh? Se vede che quando si è assai insomma, quando si va insomma, che è rasso, quando si muglia un cubo di guano, perché quando si muglia abbastanza in fugga, si è assomma, che è rasso. Il bursantaggio di una maniera è rasso, siamo tra 50 e 55, eh? e il continentale al massimo usato a 38 o 36. Io penso che c'è mica solamente, solamente la materia di rasso, ma c'è la qualità del latte. Questo caprichi, non so, li dopo appena erano a zero per fare le ugnose, se no non mangiano che mai, c'è roba scritta qua. Perché l'asso mangiano che ha di mano, roba di mano, un bel romano usoso, sempre le vattimenti a mattina a zero, non pico mica questa qualità del latte qua. Ci sono le alpine e quelle che sono, in Italia chiamano le camusciate, sono capri muvrati e razzicati, e dopo ci sono le nene, all'origine sono capri svizzere. E hanno più latte e pagano 2-3 prezzi. Questo è un affare un po' di cantà, perché faccio smarrire la capra corsa. in Italia quello che si è un po' di cantà Che è un po' di cantà? Ho comeato con 60 gradi, e lì ho nato 180 gradi. Che è razzacorza? E mi sono 70, 80 gradi, e ho fatto 100 litri di latte. E ho fatto il romaggio. Nasceremo appena a sguttare, 85 minuti. Ci ho contato 3,7 litri. Dopo i tempi di verano ci ho contato 3 litri, 3,2 litri. E faccio una ventina, una trenta, una trenta gage. Ho venduto in particolare. In particolare ho due magazzini, uno in Ponteci e uno in Beccorti, e in diritto. Passo direttamente a lui e vengo tutto, un fresco. Per fare frittile, cajade, buidici, una sola. Gli piace un fresco. Qua vende i gabretti di Ucaccio. Dopo è molto aiuto. È molto aiuto e poi muro un po'. Qua è il gabretto. Poi a fare il palco di Ucaccio. Penso che la buona gabe non c'era tanto. Le gabe gosso non c'era tanto. Facendo tutto per fare la smariccia. Quell'usia imparando il prezzo che era un'enne, e va a importare tutte queste gabe alpine. E poi, a gente lo dedicato, tutto il mondo per il gabe gosso. Adesso venivano una capa a giugno al canto di giardino e non mi hai capito, subito subito, subito, attenzione al tuo capo e tutto, tutto va contro la capa grossa. E te sa, Mercu, dice una capa magnifica, adatta allo stesso territorio, dice una scimità di diverso che si passa oggi. Cambia di razza, infatti cambia di sistema, di sistema di produzione. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Dunque ci proteggono questa razza attraverso la capacità che è data di Gampà, Ananteno, Rudione, di Macchia e di Mezzamontagna, che usano Paradiso e questo, e questo tipo di vegetazione. Un sistema da lì ha cambiato, non è più montagnano, capiano i capri per si bugliare, ora vogliono montagne capriciose e vogliono produzione senza capiare i suoi capri. Un'altra maniera di lavorare, non? Io, ma ci sono, ci sono che faccio sempre, con, allora la transumanza è questo un affare, montanera è, è difficile, qua, di fare montanera come si faccia in Anansi. Non sono mica castigati con i capri, c'è chi... No, la vita è cambiato, i doni non volevo più, non più, con le montagne, c'è una manza di cose che non è cambiato e ciò ha cambiato di nuova maniera di arrivare, questi capri, perché se tu cerca di riprodurre quello che si faceva nel passato, forzamente avrai qualche problema. Ma si può tenere la capra ampiata in regioni chiosi, si può tenere, la capra corsa? Si può tenere, ma se tu hai regioni chiosi, se tu fai crescere l'arba, allora ti viene meglio di cambiare di razza, è così che si faccia l'arba. Infatti si unisce sempre... Esattamente. E un formaggio di capra, chi ha di particolare, perché un formaggio ricerca oggi? Allora, un formaggio, noi abbiamo fatto tanti studi nel formaggio, e noi abbiamo lavorato di nuovo con i gaggi, e noi abbiamo lavorato perché il capretto ti dà di nuovo il gaggio. Ed è davvero diventato una gustissima idea. Sfortunatamente, è quasi più un nimo che utilizza questi gaggi all'antica, diciamo. Un formaggio di capra, c'è una particolarità, e di nuovo il broccio, il broccio di capra di nuovo. È assaurito. È assaurito. Ma è vero che ci sono forze, saori un po' forti, che non piacciono più a tutta l'antica. Allora, a voi le piacciono le cose più dolci, più leggere. Ma ho ormai ho fatto un latte di capra di corso, o ho ormai ho fatto un latte di capra di corso, o ho ormai ho fatto una sanena. Un latte sono gli stessi? No, no, no. Una nuda vera. Che c'è differenza? La quantità di materia che c'è dentro, è una più nuda vera. Se tu vuoi, quando hai 700 litri di latte, hai una diluzione della quantità che ti serve per fare il formaggio, hai più acqua che ciò che ti serve per fare il gagliato, quando ti serve per fare il gagliato. E la proporzione tra acqua e il gagliato, non è più l'e stesso. Noi in corso abbiamo un latte di capra che è quasi dall'e stesso proporzione che il latte di peco. Ma dite? È un latte ricco. Grasso. È grasso. E di nuovo con le proteine. A capra mangia tutto, si può dire a capra corsa. A capra continentale mangia come a capra corsa, ciò ha dato la mangia. No, ciò ha dato la mangia, ciò ha dato la mangia arba. Essenzialmente arba. Macchia ne mangia mica. Questo è un capadoglio, no? Un capadoglio, no. Se tu considerate che a macchia ci ria eliminarla, ci sono stati tanti puliti per eliminare la macchia. Invece di considerare che a macchia è una ricchezza. Dì, è una ricchezza. Ma è questo il problema. Il problema è di avere una concezione di pastoralismo che cerca di eliminare la macchia invece di cercare di utilizzare la macchia. Per la vacca, per la capra, per tutto. Esattamente. Infatti la macchia nutrisce l'animale. Forse è appegua e meno adatta a la macchia. Allora, è una cosa che sta a fare con i sumeri. Ti ricordi Cedelli? Ah, i sumeri. Hai giocato con i sumeri in paese. Hai giocato in paese. Allora, c'è una razza di sumeri. Dibbi che abbiamo parlato di queste razze mediterraneane. Chi ha i sumeri di più, chi ha di particolare? Un sumeri? Allora, era un sumeri più più di più che in continente, questo in generale. Ma lo ha soprattutto per produrre i muri. Infatti, i sumeri in Corsica era considerati come la possibilità di avere muri di travaglio. Per fare crociamente i muri? Per crociamente, con cavallo. Con cavallo. O con cavallo o con aiutanti. Quindi, ha i muri. A muri e a cimuro. Tu conosci tutto quello. E ce ne eravano per fare qui. Ma i baisoni hanno i sumeri per trascinare la sua roba? Per lavorare. E' un animale per lavorare. C'è sicuro. C'è questo punto. E' mandato malagna. E' mandato a un nostro amico. E' arrivano a sumeri più che più e tanto. E' come se sumeri regolati se può fare parecchia fare. Quando il dernier dei bucheron di Fago, con il suo nome fidale, descendono al cheflieu per livrare la ricolta, c'è un'imagine di un altro tempo. C'è raccontato che un principio in seguito 20.000 a sumeri in Corsica. Se il mio cascato è avuto un 2.000 e 18.000 è tra 2.000 e 3.000 al massimo. Ma questo è un'imagine di un uomo. e prima di fare un giudice sono stati abbastanza maestratati perché erano come dice, un gawalo di un boro e questi boro animali strascinano roba da mano a zera e mangiavano un boro affari. Allora, sono sumiri di lusso. I macchini che partivano per l'Italia per la Provenza per fare l'arcizio e qui vediamo un affare un affare che ci seguide dappertutto perché se non sbarchiamo in un continente i gorsi sono stati mangiatori di sumiri. In un'altra regione di Francia non c'è mangiare di sumiri perché in un'altra regione mangiare di sumiri e non c'è riscata. Qui c'è un sumiri gorsi. Il sumiri gorsi è più grande che all'arcizio e più grande che all'arcizio e anche all'arcizio di Provenza. E i gorsi sono in un prerigio come i Zogudini, i Provenzali e i Sardini. Allora, un ritmo di questo gorsi. Un francese dice un grigio tortorella in un corso di movagione. Quindi il sumiri è in un grigio e il francese è in un memoria davanti e da reddito. Si è pronunciato qui. Dopo l'arcizio è in un minuto e si è in un minuto a me si è benissimo. La vaca è rivelata un po' d'orè, così, e il mostaccio dice un tetto camisa con un cavo così che rimane un po' d'orè. E' abbastanza vina, sai? Un bel sumiri. Non è bello. Ti! Ti, ti! Stai a dormire, donna. Ci sono sempre stati da noi. Abbiamo sempre oltre di bastare. Abbiamo sempre oltre che hanno fatto il figlio di un principio di Zoglu. Abbiamo sempre oltre di aver guardato il portiere che ci sono anche state riconosciute. Sono anche state neri. Neri. Neri sono più scuri come qui. Questo si chiama Bè. Ci sono così, ci sono più scuri, ci sono grigi mascherati, mori. Qu'è l'unica via da un scherzo a Razzarij, che ha il rappresentante di Agursi. Aller! Hai! Tehi! Eh, mochi! Di momento che l'ha fatto il bostro, l'hospitale che il bostro fa due mesi, e dopo il bostro fa durante sei mesi. Il bostro per il bostro è un barano. Se tu vuoi da un barano, a un mesi, si tamo, tu as un barano, non vedi l'huodam. Sei mesi latte. I primi dente, poi fai un litro, e dopo il bian l'ubiano, e dopo il bian l'ubiano, e dopo il bian l'ubiano, e dopo il bian l'ubio, e dopo il bian l'ubio, e dopo il bian l'ubio, e poi il bian l'ubio. E il latte di già che sa sumi l'ubio, il latte di a un. Quando è mamma è un mica latte, andammo di a zoomire, per dar il latte a mangiare o zidile o zuccio. La mica lactose, l'ubio, 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 e poi dopo c'è un'altra parte, che il latte è utilizzato nei cosmeti. Il latte ha 24 ore per lavorare, perché se vuoi mi cadere, più di 24 ore, e noi abbiamo miso, e noi non mettiamo 20-25% di latte. I capodoi gli cadano, tutti si graziati per sapere i sumeri, ma soltanto appena di un governo, come si può organizzare un sistema per salvare una razza? Allora, salvare una razza? In Francia hanno inventato dispositivi per salvare le razze. Farà 40 anni, 50 anni, perché ci sono gente che si sono resi conti che c'era una perdita, perdita di razze terriba. È un patrimonio. È un patrimonio, è una ricchezza di una società, gli animali domestichi. A principio, a biodiversità, adesso non si parla più che di biodiversità. è una biodiversità, tutta la verità. A principale la biodiversità è considerata come biodiversità salvatica, con l'amica che è stata, diciamo, dominata dall'uomo e domesticata. Invece, Aoa ha considerato come biodiversità. I razzi locali sono una parte della biodiversità, sono considerati come guisse. C'è una piena conscienza? Piena conscienza. Allora, c'è stato di nuovo la Convenzione di Rio e, pienamente bene, hanno considerato che tutti questi razzi che noi parliamo in un momento sono parte di ciò che si deve preservare e trasmetterà da generazione in generazione. Questa è stabilita e tutta l'ente è d'accordo per farlo. Il problema è che l'ente del locale che è tante questo animale che l'hanno mantenuto non sa mica come va. Dunque, ci accompagnarli. Non so mica se tu... Saperci. Ci metti in piazza la tua questione di sapere come va. Accompagnarli? Accompagnarli. Accompagnarli. Allora, noi abbiamo cercato di fare questo accompagnamento per la Pecora, a Pecora Corsa dal principio dell'annate 80 e abbiamo cercato di accompagnare tutta la marchia. Funziona bene. Magnifico. 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 Ma al principio c'era tutto a fare. Tutto a fare. È stato difficile. È stato difficile perché c'erano i capimati che non erano troppo d'accordo perché c'erano la sua maniera di scegliere il montone, di scambiare, eccetera. E noi ci siamo con l'intenzione di capire meglio tutti questi affari, di cercare di introduire un po' di misure, di essere sicuro che non c'erano la consanguinità. Sai che quando comincia a crociare in tutti i sensi può avere la consanguinità. Dunque, ci rimane un certo livello basso di consanguinità. E questo è un problema. E pianamente abbiamo cercato di avanzare e in Corsica abbiamo questa considerazione di Casayanda e Altiani di nuovo. Altiani. Dunque, c'è un vero lavoro che sta trovato. abbiamo parlato abbastanza a maniera di trovare i bastori. Abbiamo avuto tante discussioni e potete ogni due a dire un'amica così? Non abbiamo un'amica sempre là? Non abbiamo un'amica troppo bene, perché sono sicuri di avere la ragione. E poi, non dico mica che stanno mai a ragione. Ma è vero che ci sono certi affari che non capiscono mica. Non sa mica. non sa mica. Non sa mica. Per esempio di zappè che un montone può coprire la zosureta o la zovigliola. Questo accade su ente. E' un problema. Perché se tu teni l'animale di questo bruciamento basta gli animali bastardi. ma questa è la prima di cambiare i sangue? Allora, la prima è di cambiare i sangue. Di cambiare i sangue. Di cercare di introduire animali da ora per rinnovare i sangue. Allora, per questo appunto l'organizzazione di mettere in piazza qualcosa per salvare una razza. Allora, gli spieghi. Dopo che ce la fanno? L'allevatore deve mettere l'accordo? come si può fare? Allora, ci sono parecchie etappe che ciò considerare. Il primo è di mettersi d'accordo con un altro standard. Come si chiama? Vuoi dire come è fatta questa razza. Chi ciò considera come dentro della razza o fuori della razza. Questo è il primo passo. Il primo passo è questo. Non è mica così facile. Non è mica così facile. Perché ci sono clienti che hanno i suoi gusti, le sue preferenze. Ci sono gli animali facciati, gli animali cinti, gli animali... Dunque, si è obbligati a considerare tutta la diversità. Ce la convince? Ce la convince. Ce la convince. Dopo? Questo primo passo. Dopo, il secondo passo è di fare la costituzione della base genetica vale a dire di identificare gli animali riproduttori, maschi come i vemmini, che corrispondono al standard. Ed va dentro gli animali in un libro, un libro genealogico, e diettando che tu puoi cominciare a fare la gestione. Ma ci vuole fare associo? Ci vuole fare un associo, mi sei sicuro. Ci vuole un associo, ci vuole organizzare gli enti, che tutti gli enti siano d'accordo per rapportare al standard. Ci vuole la razza. e dopo il libro genealogico sono due passi. Se tu non hai un gruppo organizzato in faccia a te è un po' mica vale. E dopo, al fine del conto, ci sono organizzionati a scavare a Sardegna. Siamo mandati a Sardegna a bere i sumeri e poi in un centro di selezione. In un centro di Sardegna hanno fatto una stalla e hanno selezionato i sumeri e hanno salvato i suoi sumeri. Pippo il mongo da Sardegna. L'asino era proprio l'aiuto dell'agricoltore e dei pastori sia per il trasporto del latte, dei legnami, degli ortaggi. un mezzo di locomozione. Purtroppo c'era quello e basta. In certi punti della montagna dove non passano le macchine è ovvio che viene usato l'asino sia per portare la legna nei punti più buoni. Siamo appunto a Foresta Burgos dove vengono allevati gli asini sardi tenuti in purezza sia gli asini sardi che gli asini dell'asinara. è un'azienda regionale fa parte appunto dell'agenzia regionale Agris Sardegna e noi siamo il servizio per l'incremento ipico. Proprio asino sardo caratteristico questo è registrato come stallone e in effetti ha tutte le caratteristiche dello standard di razza iniziare dal mantello grigio sorcino la riga mulino crociata le orecchie bordate di scuro il muso chiaro il ventre di biscia così denominato ventre chiaro ventre di biscia e qua in questo soggetto si possono notare delle striature nelle negli arti che è lo stesso un'altra caratteristica non sono tutti i soggetti che ce l'hanno però questo ce li ha è in pericolo perché c'erano troppi incroci venivano incrociati con altri asini più grandi infatti adesso chi si occupa di tutto della salvaguardia di questa razza ed è anche di altre razze che abbiamo in Sardegna per adesso è solo mantenere la razza faccio parte un'associazione che si chiama Sainu e lì siamo una ventina di allevatori dove in tutto abbiamo quasi 700 asini siamo in tutta la Sardegna abbiamo iniziato per tenere puliti i campi e poi per noi piano abbiamo fatto un allevamento vero e proprio la ragione per un paio di anni erano tutti bloccati però adesso quest'anno dicono che dovrebbero riprendere a dare i famosi 200 euro a capo i progetti sono il primo in assoluto riuscire a mungere per fare il latte di asina il primo in assoluto quindi infatti queste qui sono un maschio e le altre 40 sono tutte femmine poi c'è l'altro progetto e chiunque possa venire e fare passeggiate per vedere i nuraghi vedere il lago vedere i piccoli novenari che abbiamo in questa zona qui questo è l'asino bianco l'asino bianco dell'asinara rispetto all'asino sardo è leggermente più piccolo la differenza di 5-6 cm in altezza algarrese il musello rosa l'occhio che a differenza degli altri asini ha un altro colore va verso il rosso quindi è una varianza genetica che conduce l'animale all'albinismo e lo rende più debole come tutti gli albini è molto fotofobico nel senso che il sole gli dà particolarmente noia d'estate è sempre nascosto l'asinara è una isoletta piccolina a nord della Sardegna si sviluppa per circa 5.200 ettari ed ha una forma abbastanza allungata sembra una specie di virgola sull'asinara comunque adesso ci sono circa 500 asini 480 per l'esattezza dei quali solamente 150 sono asini bianchi la realtà è che è un asino grigio con caratteristiche albine quindi nella sua selezione oltre all'asino grigio si possono estrinsecare anche asini bianchi il numero è talmente esiguo che bisogna stare attenti e controllarlo continuare a verificare con l'università se è il caso di fare qualche intervento mirato per proteggerlo ulteriormente a 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 c'è una relazione importante. Di sicuro, di sicuro. Allora, questa relazione in Dubroccio, per esempio, abbiamo cercato con i pastori della regione Corsa di mettere i razzi locali come un'obbligazione per fare un brucio per utilizzare i razzi locali, sia di pecore come di gabbere. Non puoi fare un brucio senza i razzi locali. Questo è un esempio interessante, un esempio importante. Ci sono parecchi esempi in Francia continentale di utilizzazione di razzi locali per fare i prodotti locali, sotto appellazione. Non puoi andare senza l'altro. Esattamente. L'ultimo esempio è qui di un porco, un porco corso, dito Nostrale, che hanno cambiato di nome. L'hanno cambiato di nome perché un nome corso va ad un altro prodotto, va ad una charcuteria, va ad un'onzo, il prisurco, la coppa, qui è protetto sull'utilizzazione qui. E dunque la razza è diventata Nostrale. Il famoso porco riccino, il porco di Nostrale, io mi ricordo i vecchi anni che ho nascito come me, il porco è sparito, si può dire? C'è sempre, è sparito, non sono mica. Ci sono poche gorsi, con il pelo intorchiato, come una lana. Riccini. Riccini. Ma ci sono di noi altre popolazioni in continente, in Romania, in Ungaria. Tanno un po' così. E non abbandonato. Abbandonato. Un'eramica troppo frequente. Io ho fatto un calcolo di sapere che frequenza tanti questi porchi con il pelo intorchiato. E ho trovato meno di un per cento. Meno di un per cento. Esiste, ma è veramente poco frequente. Allora, arriviamo al porco corso. Ma ci sono tra di noi i porchi impendinati. Impendinati? Impendinati, tra i porchi di parecchi colori. Allora, ci sono stati i porchi che venivano al continente. Gli rocchi, la ciovani, tutti quei. Allora, ci sono stati un porco corso. La genetica è un porco corso. È pura o c'è sempre i resti di... Ci sono stati i crocciamenti durante anni e anni. Io non li ho nascuti. Soprattutto che a un momento lato il penitenziere di casa bianca, Vindia, Porcedi, mica castrati. E dunque ha impestato tutta la castagnica. Era piena di animali rocciati. E non c'era di noi. Ma ritroviamo, ritroviamo. E abbiamo cercato di ricostituire una base genetica abbastanza pura, di eliminare animali che presentivano colore, che presentivano performance di noi. Perché un porco corso non cresce troppo all'estero. Non nemmeno maiore. Non nemmeno maiore. Il peso adulto non deve essere troppo alto. Dunque abbiamo cercato di ricostituire ciò che era alla popolazione locale. E siamo giunti ad un bel risultato. non so se tu l'hai visto. Sì, l'hai detto. Dicendo che un porco ragionato tu hai una ragione, vero? Non si spargli mica. Tu hai una ragione con il nostro patrone. è una qualità. Qualità per mantenersi in libertà, si può dire. di libertà. Non fa la vita. Non fa la vita, come ti dici. Dicendo come dice un'altra rocca, non fa la vita. Non fa la vita. E' una giuista. Mangiare il viore di scopa. Mangiare il viore di scopa. Mangiare tutto. Il vero porco corso si mantiene bene. E la gara non è mica la stessa? E la gara non è vera. Non è vera che la gara di un continente. Che sono le differenze? C'è più grasso. Più grasso dentro del muscolo. Ciò che chiamano i lipidi entramusculiari. Dentro del muscolo c'è una differenza enorme. C'è più di 8 a 10% di lipidi intramuscolari. Invece le razze di un continente giungono a 2, 2, 3, mica di più. Invece le razze di un continente giungono a 2, 2, 3, mica di più. C'è più grasso. Su questo è salvato. Spirgo. Spirgo che è salvato. E' salvato soprattutto perché c'è la valorizzazione attraverso l'appellazione di origine controllata. E qui è importante di avere questa relazione entro la razza e il prodotto, il mercato. L'obbligo a avere un prodotto e l'obbligo a avere la razza. Esattamente. Allora, ma venisci a dire tra qualche minuto un piccolo rimprovero. Ah, dimmi appena. L'INRA ha fatto un lavoro miracoloso. Sono 40 anni che poi siete qui. Siete appena tagliati di un mondo agricolo? Non so, quando parlo di pastori e l'INRA non conosciamo mica dopo. C'è una tagliatura, perché un nuovo presidente lo d'Arco vuole rimanere vicino a voi. Lei ti presenta questa tagliatura con il mondo dei pastori e dell'allevatori? Non credo mica che ci sia veramente una tagliatura, come tu dici tu. È vero che noi cerchiamo di produrre conoscenze. Ma non siamo mica in carica di sviluppo. Non siamo mica qui per sviluppare. Siamo qui per studiare, per produrre i referenzi che mancano. Perché, beh, due suoi enti mancano i referenzi. Se tu vuoi fare un progetto, se tu vuoi fare un'appellazione, se tu vuoi fare... Ha bisogno di questo. E quando mancano, vengono a cercare a noi per produrre queste referenze. Ma non siamo mica in carica di fare i sviluppi in piazza di quelli che sono pagati per fare questo affare. Le gambe d'agricoltura e lo d'Arco. Sono i due che hanno sviluppato. E le politiche. E le politiche. Ma ti posso assicurare che noi cerchiamo i rapporti più stretti possibili con i gambe d'agricoltura e con lo d'Arco. Perché penso che si può sviluppare la D.U. Corso con la ricerca economica. E con la scienza. E con la scienza. Se un pastore viene qui o un peccato o un peccato viene a trovare lo ricevetevi, l'inteso. Tutte le settimane abbiamo qui. Tutte le settimane abbiamo certi produttori che conoscono qui la strada dell'Inra. Ma hanno una paura. Certo hanno una paura che viene qui si può dire. Forza. Forza. Qui che non conosciamo, no. Un'animica paura. E' una casa aperta. E' una casa aperta. E' una casa aperta. E spartimmo. Spartimmo caffè e spartimmo la nostra conoscenza. Allora, Francia ti ringrazio. Allora, speremo che l'allevatore di Bastori è venuta bene in rap e che hanno fatto un troio magnifico. Vi saluto a tutti. A presto. 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 A presto.